445 giocatori al Day 1B dell'Italian Poker Open che si aggiungono ai 403 di ieri per un totale di ben 848 iscritti. L'Ipo conferma di essere in perfetta salute, meglio dire in forma atletica. Gran forma anche per il trio composto da Maurizio Falzea, Mauro Montemagni e Marcello Baccaglini. Viaggiano nelle prime tre posizioni attorno alle 150.000 chips. A inseguirli un cliente scomodissimo come Maurizio Musso che ne ha 113.000 e qui a Campione d'Italia in questo torneo si è pure portato a casa un secondo posto da qualche decina di migliaia di franchi svizzeri. Qualche edizione fa e sembra per la storia perché il torneo è cresciuto esponenzialmente, più che mai il payout ma non il buy-in. Segno che sempre più rounders si sono innamorati di questa kermesse pokeristica che lunedì viverà il suo atto finale e la sua consacrazione, il final table televisivo in diretta streaming. Un motivo in più per esserci seduti.